bello eh? bellissimo come dire? grazie ma non mi mangiare 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 qui è fonda eh? ma quanto è qui? mezzo metro? che di più? clausia chiesto se si fa una foto di te e che puoi ti accorci? eh? fa una cosa qui ma che dì? se c'è dei cadenni? bello si si quello spettacolo chi si immaginava oggi? eh? ma chi si immaginava? si c'era un giro la saliana ta 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 ahahah 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 la salua